Dicevo, prima che se stoppasse, che la prossima che devo portare è questa qua. Io ti aspetto. 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 Io ti aspetto. Io ti aspetto. ti aspetto. Io ti aspetto. Io ti aspetto. ti aspetto. Io 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 i tuoi. wood. Io ti aspetto. Io ti aspetto. Guarda tutti i muri. marmo le macchine in ordine magari chiudesse lo sportello le macchine in ordine di costo solo l'unica cosa quella quale all'ultima a quella è boh forse un passeggero manco aspetta entro io a entrare te facciamo un salto pure all'officina ti dovrebbe te spero che te faccia entra ok la magia dei denari vedi e qui volendo uno si c'è la tizia che aspetta lì pagata e volendo uno può fare di esci dal veicolo vabbè l'officina poi solo modifica il pavimento non importunare la mia dipendenza e penso forse no lì non lo so ci sono i vari forze tipo si può pure vedere la televisione ah che tagliate si è vero ci sta pure volendo fammi vedere eh certo se ne sono inventate le cose che c'è adesso ah no sono fatto accessi delle gambe allora detto ciò alzati vabbè il pavimento è sempre quello super mega hyper mi sa che se ne entro io non ti fa mai entrare te e però forse da qui ecco da qui eh si vedi poi comunque la macchina penso probabilmente te la te la trasporta a prescindere dai garage se no ah beh beh questa la potremmo forse pure lasciar qui oppure no vabbè la riportiamo a casa sua e poi usiamo l'ascensore per andare all'ufficio esci dall'ufficio esci e vai al posto ti fa fare esci e vai al garage oppure esci dall'edificio con la macchina oppure solo esci davvero yeah no no eh no quelli ci vogliono adesso ci vogliono o l'avenger o il coso quelli sono speciali questo è solo coso lo santos custom ah poi vai qui teoria te fa fare ufficio che tu parli aspetta faccio ufficio in teoria te dovrei poter invitarne all'ufficio aspetta 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 invita in ufficio si non me fa mandare l'invito perché mo sei grigio ah a posto tattini trasportati guarda che carico come elegante la tizia è più brutta però l'unica cosa che non ho modificata la scritta quella si può sempre fare però questo è l'ufficio al massimo della sua potenza e sono pure pochi solo che la cassaforte è proprio inutile all'ennesima potenza cioè non serve manco per depositare i cosi i soldi oh guarda che vista ma c'è cazzo di qua vabbè c'è la topaia perché il letto fa schifo il letto è una brandina oribilante però questo è il primo DLC certo ci potevano mettere mai qui c'è il cesso con la doccia ah c'è solo la doccia forse c'è il cesso no ah no qui c'è c'è l'ingresso c'è solo la doccia e niente però guarda che bella vista vedi tutto che stai una cosa che noi abbiamo mai provato e dovremmo provarla è il cannone orbitale però eh prima o poi c'è pure l'obiettivo proprio del del gioco che ti dà diciamo su Xbox Live mi pare di uccidere qualcuno con il cannone orbitale allora vi faccio il whisky schettino strano che c'è una di quelle action figure che trovi in giro vabbè non so se è la stessa vai questo schettino gratis e ora mi manca dico solo la sala giochi alla pelle ecco sopra mi faccio mi ci metto sopra un bel bicchiere vino rosso a posto whisky e vino rosso perfetto da qualche parte in casa nell'ufficio mi pare c'è pure il room potrei andare a mischiare mi pare entra qualche parte c'è pure il room in effetti in bagno ma sa che non è mi posso fare la doccia ma subito questa cosa la devo vedere posso anche canta nell'auricolare per guadagnare rp ma nel senso che se se levassi il gruppo e cantassi verrebbe cioè funzionerebbe la scelle l'abbiamo lavate si lava tutto la schiena tutta la scelle la testa la faccia a posto può andare sono pulito beh te conviene però modificare quello che già c'hai uh eccolo il whisky si cosa il room si ci metto pure sopra il room whisky room vino rosso vai e vabbè mi mancano da spostare la moto e due macchine quelle che ho vinto alla cosa alla ruota non ti fa salire sulle macchine vabbè dàmi la parola e farò succedere aspetta come posso aiutarti come posso aiutarti prende la prende la che età è bellissima questa cosa posso richiamare i veicoli pure da da cosa da night uscita qui e spostarli direttamente sotto solo che non mi ricordo l'ordine in realtà mi sa che stanno nello stesso ordine nel parcheggio perché io ho vinto prima questa e poi la tempesta e si stanno nello stesso ordine va beh però figa sta cosa è che mi fai buttare le sigarette vero che tanto non ci faccio un cacchio no no vabbè detto io io me ne vado a dormire a sto punto facilmente esci da online e ci c'è pure l'unica cosa voglio che mi fa rientrare è stato a giochi perfetto e vabbè la ruota 20.000 dollari e eh sì eh sì eh tanto qua vedo che la situazione si evolve quindi sì sì giusto giusto ok buonanotte ciò 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 è molto divertente a l'unica cosa a l'unica cosa Grazie.